Tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia regionale. La FIGC Molise sta limando gli ultimi dettagli organizzativi per offrire un evento di assoluto rilievo. La giornata inizierà già alle 10.30 con la consueta riunione ufficiale tra il presidente di Cristinzi e le società di eccellenza e promozione. Il clou della giornata ci sarà a partite dalle ore 14.30, protagoniste le due finaliste Venafro e Aurora Alto Casertano. Nel servizio del TG Sport di ieri abbiamo analizzato l'importanza della gara per entrambe le compagini desiderose di scrivere il proprio nome nell'albo della manifestazione. I bianconeri hanno perso le precedenti tre finali giocate, i campani sono alla seconda consecutiva dopo la sconfitta di misura contro il Campobasso nella scorsa stagione. Oggi ripercorriamo il cammino che ha consentito di arrivare all'atto finale. Il Venafro ha chiuso al secondo posto il girone eliminatorio con quattro punti dietro al San Pietro in Valle. Ottavi senza storia contro il Ripalimosani, 6-0 all'andata e 0-0 al ritorno. Nei quarti è stato il Boiano ad alzare bandiera bianca arrendendosi di misura in entrambi i confronti. Mentre in semifinale due gare molto intense contro il Guglionesi, risultato identico di 3-2 sia all'andata che al ritorno in favore dei Venafrani. Due vittorie e un pareggio nella fase al girone per il Casertano che si è qualificata da prima a quota 7 punti. Negli ottavi a lasciare strada ai biancorossi è stato il Termoli 2016 che il rival Adriatico ha perso 3-2 e poi 4-0 a Pietra Melara. Nei quarti di finale a vincente è stata la doppia sfida con l'antagonista del campionato Isernia, battuta sia all'andata che al ritorno con il minimo scarto. In semifinale la Gioiese ha venduto invece carissima la pelle e dopo aver perso nettamente in casa 0-3 ha spaventato le Aquile andando in vantaggio 2-0 prima del definitivo ribaltone. Ricordiamo che la vincente di domenica avrà accesso agli ottavi di finale nazionali, accoppiamento già definito con il Teramo, vincitrice della Coppa regionale in Abruzzo. Gara di andata in Molise mercoledì 14 febbraio, il ritorno 7 giorni dopo, designata anche la squadra arbitrale. A garantire la regolarità del match ci sarà Fabrizio Simonelli coadiuvato dagli assistenti Pasqua e Azzariti, quarto uomo invece sarà di domenico.